un gol pazzesco amici di Sport Italia appassionati di Pallamano ben ritrovati nuovo appuntamento con Endmormania l'ultimo qui negli studi Sportcast un ospite importante quest'oggi perché è probabilmente l'uomo nuovo della Pallamano italiana è Marco Sant'Andrea presidente dell'EGO Siena perché si sta discutendo tanto nel mondo della Pallamano di questo progetto che poi Marco provvedrà a illustrarci nel dettaglio, progetto nuovo che vedrà in assi di partenza una piazza storicamente molto fidelizzata allo sport con tutto il suo bagaglio di tradizione, di grande esperienza soprattutto nel basket e nel calcio e ci auguriamo da settembre anche nella Pallamano. Grazie Marco intanto per aver accolto il nostro invito Marco sarà ospite della prima parte di Endmormania nella seconda parte avremo ospite Alessandro Fussina che di questo progetto è il responsabile tecnico. Un saluto Matteo Aldamonte già in postazione touch, provvedrà ad illustrarci i numeri e soprattutto indicazioni utili per i prossimi appuntamenti che attendono il movimento su tutti la partecipazione degli azzurri ai giochi del Mediterraneo. Ne parleremo nella seconda parte, intanto copertina d'obbligo per il progetto Ego Siena. Il servizio. Un progetto ambizioso per trasformare una città che ha lo sport nel DNA in una piazza di riferimento della Pallamano italiana. L'Ego Handball Siena si presenta e prende vita fra curiosità e ammirazione. Il progetto sportivo ideato da Marco Sant'Andrea, patron di Ego e già main sponsor della Pallamano Tavarnelle nello scorso campionato di A1 e della nazionale femminile in occasione della gara contro la Slovacchia a marzo, è senza dubbio la grande novità nell'estate della Pallamano italiana, perché legato a una grande città, Siena appunto, ha grandi nomi e soprattutto ha un grande potenziale e grande sarà anche l'impianto. Il Palamensana, oggi palaestra templio del grande basket legato indiscutibilmente alle imprese sportive della Montepaschi. Proprio dalla pala sport a capienza di 5.000 posti tanto per intenderci, parte l'idea di mettere in piedi qualcosa di grande in questi giorni prenderanno il via i lavori per l'adeguamento della struttura destinata in pochi mesi ad avere le dimensioni ad hoc per la Pallamano. Poi i nomi importanti pure quelli, a cominciare dal tecnico Alessandro Fusina, tre volte campione d'Italia sulla panchina di Bolzano tra i nomi simbolo del movimento a cui sarà affidato il compito di costruire una formazione fatta di giovani talenti e di un giocatore straniero, stretto riservo sul nome per il momento, per affrontare il prossimo campionato di A2 con il nome di Ego Handball Siena a questo si affiancherà l'avviamento da subito di una promozione capillare della città toscana, dove entrare con attività promozionale giovanile anche il taglio del nastro del progetto sarà in grande stile, Ego Handball Cup dove arriveranno top club di livello mondiale quali Gummesbach dalla Germania Nims dalla Francia, Viena dall'Austria Albar dalla Norvegia e Sida Fserne dalla Danimarca tutte opposte naturalmente anche alla formazione del Patron Sant'Andrea e del tecnico Fusina l'appuntamento in questo caso è dalla 27 al 29 luglio proprio alla palaestra di Siena Tanta carne al fuoco, no? Faccio anche fatica a stabilire un punto di partenza della nostra chiacchierata Patron, cosa ti ha spinto a implementare un progetto che già aveva una sua dimensione a Tavarnelle perché mi pare che, insomma, questo è un ulteriore passi davanti Esatto Diciamo che il Tavarnelle quest'anno ha avuto la Ego come main sponsor io ho avuto modo di ricalarmi nella realtà della pallamano che è una realtà che conosco da tanti anni mi ero un po' assentato per, diciamo, problemi lavorativi per impegni lavorativi ci sono ripiombato, diciamo, con tutti i piedi Fulminato Fulminato perché è una malattia proprio la pallamano Contaggiosa Contaggiosa Come abbiamo spesso detto Come si dice, l'appetito viene mangiando quindi quest'anno è stato sicuramente un progetto importante che abbiamo portato avanti con il Tavarnelle con le tante giovanili che hanno portato grossi risultati compreso la prima squadra che logicamente non è rimasta in A1 però dobbiamo dire che è fatta di tanti giovani promettenti che fanno parte della nazionale che faranno tutti parte del Veicolati a Siena ci sarà una grossa collaborazione che continuerà con Tavarnelle perché Tavarnelle avrà comunque sia sempre come main sponsor l'Ego quindi ci sarà questa stretta collaborazione visto il grosso vivaio che ha Tavarnelle però la società di punta sarà appunto Logicamente puntiamo in una città importante come Siena che purtroppo negli ultimi anni è stata sfortunata sia come dicevi tu nel calcio e nel basket anche se è qualcosa ripreso a muoversi esatto soprattutto con la pallavolo dove diciamo assomigliamo tanto come progetto infatti stiamo collaborando in maniera stretta anche con Lemmas Villas che appunto parteciperà il prossimo anno al campionato di Serie A1 città importante, palazzetto dello sport importante esatto partiremo proprio domani con le modifiche al palaestra perché dobbiamo andare a modificare sia la pavimentazione del parquet sia la pavimentazione del tappeto che tra l'altro verrà fornito dal Gumesbach società tedesca importantissima conoscete tutti questa società che ci ha portato e ci ha spinto in questo progetto perché io parlando con loro diciamo hanno visto l'impronta che sto dando alla società sportiva che è la stessa che ho in azienda e quindi l'intento è quello di portare avanti su Siena una società organizzata in un certo modo Siena capitale della palla a mano internazionale è proprio a fine giugno Matteo a fine luglio dal 27 al 29 con questo torneo molto importante arrivano squadre da Germania Danimarca, Francia non squadre qualunque insomma si fa presto a dire arrivano squadre importanti il Gumesbach è una delle squadre di maggior tradizione a livello europeo il Nims è tra le squadre ai vertici del campionato francese anche squadre alla Norvegia insomma vi presentate subito in grande stile alla città e al movimento della palla a mano italiana diciamo che la cosa che ci ha fatto molto piacere è quando io ho parlato del torneo che avevo in testa di organizzare su Siena subito ho avuto consensi da parte prima di tutto in primis del Gumesbach e dell'USAM e di lì che poi è partito il tutto e non nascondo che con due squadre del genere il resto è stato più semplice Gumesbach stesso un mesetto fa ci ha ospitato in Germania ci ha fatto vedere un po' da dietro alle quinte come è il loro lavoro il modello organizzativo e proprio il discorso che l'accordo che abbiamo instaurato e che porteremo avanti è proprio di riportare il modello Gumesbach su Siena e di lì la prima cosa che a parte del torneo ma ci sono tutta una serie di collaborazioni strette che vanno oltre che giocatori anche in cose pratiche per esempio il tappeto di gioco che sarà quello del Gumesbach ci saranno tante iniziative compreso il gemellaggio con la stessa città di Gumesbach Allora, sarà importante poi insomma in qualche modo coronare questo progetto societario di assoluto livello con un progetto tecnico come abbiamo detto affidato ad Alessandro Fusino è tempo di mercato ci si sta muovendo e ci si sta muovendo nel massimo campionato anche tenendo conto di questa nuova realtà che per quanto posizionata in A2 è entrata possiamo dirlo insomma anche in maniera prepotente proprio nel mercato italiano campagna trasferimenti assolutamente aperta si registrano i primi movimenti qualcuno anche sorprendente vediamo il prossimo servizio facciamo il punto sui movimenti di mercato e poi insomma il patron del Ego ci potrà anche raccontare qualche novità a proposito della sua futura squadra il ritorno al girone unico in Serie 1 maschile gli addi di Monica Prunster e Neverrupez alla Salerno corazzata del campionato femminile stanno infiammando un mercato in grande fermento nessuna delle 14 qualificate alla massima serie tra gli uomini vuole farsi trovare impreparata ad un campionato che si preannuncia lungo e durissimo chi per il momento perde pezzi a Trieste che dopo lo spagnolo Sergio Crespo approdato alla Bressanone ha dovuto incassare l'addio di Eric Udovicic l'italo-croato classe 95 finito nel mirino di mezza Serie A1 ha scelto Bolzano per proseguire la sua avventura sportiva l'unico ritorno certo nelle fila dei Giuliani di Giorgio Veglia e perciò fino ad ora Jan Radojkovic di rientro dopo la non fortunatissima avventura a Merano Bolzano intanto ha individuato nel croato Boris Dvorsek ex della Piano Reduce dall'esperienza in Finlandia e il successore di Fusina unico tassello mancante per gli altoatesini e l'ala sinistra che dovrà sostituire l'uscente da Piran si parla di Pista Azzurra e allora i nomi circolanti sono quelli di Pivetta o più insistentemente Arceri con quest'ultimo che ha intanto comunicato sui social media l'addio al Cingoli sempre in tema di nazionale saluta Bolzano il terzino Alessio Moretti dopo uno scudetto e una supercoppa in Alto Adige il terzino Lombardo tornerà a vestire la maglia del Cassano Magnago ieri l'annuncio ufficiale del club del patron Petazzi dovrà cambiare qualcosa anche conversano con il presidente Roscino che deve in primis fare i conti con la partenza del centrale Dinko Dedovic vicinissimo al Pressano i trentini sembrano candidati ad un mercato di primordine mentre per i pugliesi calda la pista estera per l'individuazione di un terzino destro mancino capitolo allenatori arricchito dalla novità legata a Jurgen Prantner in uscita da Merano con la sostituzione che vede in primis il nome di Milan Gagovic in Serie 1 femminile prende corpo in queste settimane la composizione definitiva del massimo campionato le uniche ufficialità arrivano da Salerno che ha già individuato in Dragan Reich il nuovo allenatore nella italo-cilena Antonella Piantini in entrata da Bressanone il portiere che succederà a Prunster fermento anche in casa addosso buono Bressanone o Derzo dove complice il sentore di ridimensionamento in casa con Bersano si percepiscono possibilità concrete di ambire ad obiettivi importanti del prossimo campionato e allora le novità dell'Ego Siena possiamo già raccontarne qualcosa quella di Fusina ha già fatto tanto rumore io penso che quella di Fusina sia una novità importantissima diciamo che appena con Fusina ho parlato del progetto ho visto subito che c'è stato un'approvazione notevole da parte sua è stato sposato in pieno il progetto anche perché quello che vorrei portare su Siena è una squadra giovane ecco il progetto tecnico prevede un investimento importante proprio sui giovani giusto? esatto l'obiettivo del progetto è quello di sulla base della squadra del Tavartelli che è una base solida con tanti talenti ma a portare qualche innesto di ragazzo giovane che possibilmente nel giro della nazionale dal far crescere e con uno straniero importante che al momento purtroppo questione di ore per caso in arrivo dalla Bundesliga esatto però non posso dire altro quindi questione di ore ma poi si saprà il nome quindi sarà un giocatore che penso possa far crescere possiamo dire Marco in conclusione di questa prima parte dedicata appunto all'Ego Siena la 2 è un passaggio insomma il vostro obiettivo credo sia quello di crescere da una parte dal punto di vista societario tecnico eccetera ma poi di approdare nel girone unico nella massima serie l'obiettivo è quello diciamo bisogna guadagnarlo sul campo e quindi anche perché sarà molto competitivo come campionato però non nascondo che l'ambizione è quella di crescere ai massimi vertici nella 1 bene grazie grazie perché ci fermiamo qui prima parte dedicata a Marco Sardatrea padron dell'Ego Handball Siena ritorneremo ad occuparci ancora del nuovo progetto toscano con il responsabile tecnico l'alleatore Alessandro Fusina e con Alessandro faremo anche il punto sull'attività delle nazionali azzure che stanno intensificando la loro preparazione in vista della partenza per la spagna troppo sorridi riaprono le iscrizioni ai centri estivi della Fit per l'estate 2018 visita il sito www.fitcentriestivi.it e scrivici a centriestivi at federtennis.it oppure chiama il numero 06 87 15 3570 Brallo Serra Mazzoni Castel di Sangro Trabia Bardonecchia e Paderno del Grappa ti aspettano per un'esperienza indimenticabile e con una grande novità da quest'anno ai centri estivi della Fit potrai scoprire anche la pallamano centri estivi Fit l'estate dentro di te seconda parte di Headball Mania salutiamo già presentato Alessandro Fusina ciao Marcello buonasera grazie Alessandro dopo tante frequentazioni sui campi oggi ti tocca lo studio ti tocca anche Matteo Aldamonte tra pochissimo complimenti intanto per questa nuova avventura molto stimolante lasciare Bolzano dopo aver vinto tutto con la squadra altra destina e rimettersi in qualche modo in discussione ripartendo la 2 è segno di grande consapevolezza dei propri mezzi si proprio diciamo che hai centrato una delle motivazioni per cui ho deciso di affrontare questa nuova avventura è un nuovo stimolo il progetto è importante è ambizioso ed è una sfida che voglio affrontare intanto prima il presidente ha già posto insomma un primo paletto ha detto bisogna conquistare sul campo la promozione insomma già sotto questo aspetto parti con una pressione niente male però ci sono ci sono abituato negli ultimi anni anzi proprio la pressione sono quegli stimoli che ti portano a dare il meglio di te stesso assolutamente poi ritorneremo ancora a parlare sul progetto Egosiere intanto con Matteo Aldavonte facciamo il punto sui campionati giovanili perché siamo in dirittura d'arrivo manca soltanto Misano all'appello manca soltanto il festival della pallamano dall'11 al 15 luglio a Misano Adriatico ma si sono concluse le finali nazionali per le categorie Under 21 maschile Under 19 e Under 17 in questo caso al maschile a femminile due dati su tutti Merano ha disputato tre finali ne ha vinta una quella Under 21 in casa contro Bologna Cassano Magnaco ha già portato a casa due titoli italiani battendo sempre Merano peraltro nelle categorie Under 19 e Under 17 vediamo la clip perché mostriamo i volti di questi ragazzi che hanno vinto i titoli italiani questo è il Merano categoria Under 21 vittoria contro la formazione del Bologna Mestrino invece che ha battuto in un derby tutto Veneto il Padova nella finale Under 19 al femminile Salerno in una finale splendida contro Conversano peraltro remake tra l'altro della finale scudetto al femminile ai tipi dai 7 metri dopo due tempi supplementari altra parità Cassano Magnaco invece che fa grande festa per l'Under 19 ma anche nella categoria Under 17 vivaio davvero spettacolare quello della formazione cassanese abituato sempre a portare a casa trofeo a fare incette di titoli davvero nella fase finale della stagione a livello giovanile dunque questo è quello che abbiamo visto ora ci attende Misano tra poche settimane subito una valutazione tecnica con Alessandro Fusina che conosce benissimo anche il movimento tra le pieghe giovanili Merano tre finali soltanto una portata a casa ma intanto arrivarci in finale è un segnale importante Cassano doppietta due su due e si prepara probabilmente al triplete a Misano segnale questo di un lavoro che a Cassano stanno facendo benissimo partendo proprio dalla base Cassano e Merano sono da anni che sono ai vertici nel settore giovanile devo dire che Cassano quest'anno veramente ha raccolto tantissimo anche con la prima squadra sono riusciti a ottenere il girone unico e lì c'è un lavoro da appunto da tanti anni il lavoro paga il lavoro paga peraltro tu hai allenato nelle ultime stagioni uno dei talenti più importanti proprio della Fucina Cassanese ovvero Moretti che intanto è ritornato di nuovo a Cassano te l'aspettavi? No a dire il vero diciamo che ok sono ancora presente ancora nella realtà Bolzanina perché diciamo il distacco ancora deve deve avvenire sinceramente non me l'aspettavo pensavo che alla fine Moretti rimanesse a Bolzano però da questo punto di vista non mi permetto di fare nessun giudizio credo che dal punto di vista personale si debba rispettare le sue scelte senti invece guardando quanto è successo nel settore femminile Mestrino nell'Under 19 Salerno nell'Under 17 con la squadra peraltro quasi Under 15 anche sotto questo aspetto sono Piazza Salerno Mestrino abituati a lavorare in un certo modo con i settori giovanili ricordando anche Conversano che ha perso in finale ma soltanto i 7 metri contro Salerno e Cellini Padova per l'Under 19 alla fine si vede che proprio in queste manifestazioni di finale giovanile sono arrivate alla fine quelle società che tradizionalmente fanno un buon lavoro a livello giovanile la cosa bella è che nelle manifestazioni finali di cerimonia è bello vedere questi giovani messi sulla pedana come i senior diciamo che dà un'aria molto professionale a tutto quanto assolutamente a proposito di giovani insomma ce ne sono diversi nelle rappresentative azzurre in partenza manca ancora qualche giorno ma intanto si lavora per i giochi del Mediterraneo Matteo si ci siamo ritrovati con le nostre nazionali azzurre a cingoli in questi giorni per quella che è diventata casa Italia di fatto in questi giorni appunto prima della partenza la volta di Tarragona vediamo subito con la grafica quelle che sono le convocate a disposizione di Riccardo Trilini sono 19 nomi dai quali poi si arriverà alle 16 che partiranno alla volta di Tarragona naturalmente ci sono tutte di fatto le giocatrici a disposizione del direttore tecnico Trilini e di Revere Ruppets che tra l'altro in questa occasione esordirà di fatto sulla panchina della nazionale per il Ruppets 2 perché è un ritorno a distanza di 4 anni questa è dunque la squadra femminile vediamo anche invece quella che è la formazione maschile ancora con l'aiuto del touch qui Riccardo Trilini ritrova alcuni giocatori importanti tra cui appunto Pablo Marrochi che rientra dopo un infortunio Italia maschile che peraltro viene dalla vittoria dell'Adriatic Cup 3 vittorie su 3 un segnale molto importante attendiamo di ritrovare Doldan che è un giocatore sicuramente di grande rilievo anche se la batteria dei pivot con Capitano Maione e Parisini in grandissima forma e l'Adriatic Cup è sicuramente molto ben dotato tra poco ascolteremo proprio Riccardo Trilini ti chiedo intanto la novità sulla panchina femminile Ruppets che di fatto assume la guida della femminile Riccardo Trilini doveva necessariamente a questo punto chiudere la sua esperienza con la femminile perché non avendo il dono delle buichità non poteva andare in panchina ma era un percorso questo già in qualche modo annunciato come hai valutato questa soluzione? Sì hai detto bene era un discorso già annunciato i carichi di lavoro dal mio punto di vista erano eccessivi per aver individuato solo in una figura questo tipo di attività e credo che a livello qualitativo aver preso Ruppets sia una cosa positiva soprattutto per il gruppo femminile tecnico specializzato esattamente e invece le ambizioni lo chiediamo ad una medaglia d'argento ai giochi del Mediterraneo perché nel tuo ricchissimo palmarès puoi annoverare anche una medaglia d'argento ai giochi del Mediterraneo questa rosa così come l'abbiamo vista in sovraimpressione è una rosa competitiva parli del maschile? Sì di Riccardo Trilini io credo che negli ultimi anni questo sia il gruppo almeno sulla sulla carta più forte che ho visto soprattutto hanno uno strapotere fisico hanno una batteria di terzini notevoli giocatori esperienti e giocatori giovani che comunque si sono messi veramente in evidenza almeno negli ultimi due anni nel panorama italiano credo che devono avere l'ambizione di fare un risultato se lo devono imporre come gruppo è giusto alzare l'asticella secondo me sì si sono allenati tanto da quando Trilini si è insediato hanno avuto tanti stage di allenamento tante manifestazioni a livello internazionale dove si sono confrontati questa è la strada corretta per cercare di appunto alzare l'asticella ripeto dal mio punto di vista è un bel gruppo visto che sono molto uniti hanno un buon feeling col tecnico devono andare a fare un risultato importante Italia reduce dal successo nell'Adriatic Cup buon viatico proprio in vista delle fasi finali dei giochi della Mediterranea di Tarragona al tema della manifestazione abbiamo raccolto le impressioni di Riccardo Trilini ascoltiamo tutti quanti sorpresi dalla grande voglia che hanno questi ragazzi di dimostrare che stiamo migliorando non ci dobbiamo dimenticare che è giugno molti hanno fatto la finale scudetto da poco chi gioca all'estero ha giocato fino al 2 giugno e nonostante questo hanno dimostrato veramente una grande motivazione lo dobbiamo sfruttare continuando a lavorare e a crescere come si è visto in queste tre partite possiamo sicuramente dire che l'Italia può finalmente prendersi la libertà quantomeno di sognare direi che abbiamo acquistato in quest'anno della dignità credo che alcune nostre vittorie in passato sono state motivo di vergogna da parte degli avversari vedi l'Ucraina che ha cambiato allenatore e ora con queste tre partite abbiamo battuto squadre che magari potevano sulla carta essere migliori di noi e quindi secondo me stiamo acquistando dignità che ci aiuterà ci aiuterà perché se è vero che da una parte gli altri ci rispetteranno di più daranno una maggiore forza maggiore rispetto nei confronti dell'Italia che sta conquistando un po' di vittorie importanti per il morale per il ranking per la consapevolezza per l'autostima insomma sì sì Trellini ha usato la parola dignità sono sono d'accordo e questo si vede da come si rapportano i giocatori l'ho detto prima è un bel gruppo credo che c'è da fare anche qualche scelta perché insomma soltanto in sedici potranno partire quello è il compito di Riccardo per cui ma sai finché sono questo tipo di scelte sicuramente fa sempre bene quando ne hai in abbondanza sono sicuramente scelte difficili ma più semplici la regione ci sta proponendo invece immagini relative alla nazionale azzurra al femminile parteciperà ai giochi del Mediterraneo come dicevamo allenata da Neven Ruppets qui in questo caso la situazione è un po' più complessa oppure intravedi qualche margine anche per le azzurre oltre che per gli azzurri in Trillini ma secondo me speranza di medaglia ovvio a quello di medaglia adesso non so perché sinceramente il valore del femminile come arriverà alla competizione ecco poi bisogna vedere come si presenteranno le squadre del calico di Serbia Montenegro eccetera per la maschile c'è un discorso un po' diverso credo almeno nelle manifestazioni che ricordavo io e non arrivavano quasi mai al completo le formazioni di prima fascia per quanto riguarda la femminile dovesse accadere ripetersi la stessa cosa forse qualche speranza si potrebbe cullare ma comunque la femminile in passato ha anche vinto medaglie ai giochi del Mediterraneo non dimentichiamocelo nelle ultime uscite ci sono stati dei miglioramenti anche quello è un gruppo coeso è un gruppo che si conosce da tantissimo tempo probabilmente anche l'arrivo di un loro tecnico specifico potrebbe essere anche una chiave di svolta io glielo auguro per cui in bocca al lupo agli azzurri e cosa invece auguri ad Alessandro Fusina per la prossima stagione? ma no io sono contento di aver intrapreso questo progetto per me saluti tanto saluti Bolzano credo con soddisfazione e orgoglio no? Bolzano per me ha rappresentato una parte della mia vita importantissima le mie figlie hanno vissuto sei anni di un'età di un'adolescenza importante quindi non è stata facile la scelta di lasciare Bolzano dove ci sono tanti amici persone che mi hanno voluto bene l'ho detto anche in altre interviste diciamo ho già ringraziato la città la società le persone che mi hanno creduto in me anche chi non ha creduto per cui va bene tutto no no va bene tutto rimane rimane comunque una parte importante un ricordo che che terrò sempre dentro di me e intanto comincia una avventura credo che per un allenatore sia questo lo stimolo più importante sicuramente gratificante Matteo siamo in chiusura sì da ricordare abbiamo l'appuntamento l'ultima puntata della settimana prossima di Handball Mania che non sarà in questi studi abituali ma avrà una location particolare Casa Italia appunto a Cingoli il raduno delle nostre nazionali azzurre quindi l'appuntamento è sempre per giovedì alle 15.30 con un ampio reportage da Cingoli grazie ancora Alessandro Fusino grazie a voi bocca al lupo alla nuova esperienza a Siena è tutto per questo numero di Handball Mania prossimo ci ritroveremo da Cingoli l'occasione è migliore per salutarci e ricordare quello che è stato un po' il motto dominante di questa stagione palla a mano sport straordinario stimolante elettrizzante dobbiamo soltanto contagiarci e contagiare gli altri grazie a Alessandro Fusino a Matteo Aldamonte ci ritroviamo giovedì da Cingoli arrivederci un gol pazzesco grazie a tutti grazie a tutti